Ormai tutto pronto per questo premio Zauro LB, una condizionata per femmine di due anni non vincitrici di 3.000 euro in carriera. Sono in 12 al via. 1. Boom Boom Jet, Paolo Leoni, 2. Birchino P, Roberto Andraghetti, 3. Beverly Trio, Marco Stefani, 4. Basilea, 3. B, Vincenzo Piscuoglio, 5. Barbera Jet, Nando Pisacani, 6. Buganda FKS, Roberto Vecchione. In seconda fila, 7. Blue Call, Edoardo Baldi, 8. Bohemia Ciacch SM, Gabriele Ballotta, 9. Bahia dei Greppi, Antonio Greppi, 10. Birbona, Cosimo Palomba, 11. Briscola Matley, Maurizio Cheli, 12. Baria Ama, Davide Nuti. Quattro cavalle al debutto. Numero i 5, 7, 8 e 10. Noterete la prima fila. Parte piano Beverly Trio, rompe Birchino P. È velocissima, dal largo Buganda FKS. Numero 2, Birchino P, squalificato. Prende il comando davanti a Basilea 3B. Poi Barbera Jet. Vediamo a largo Baria Ama. Intanto l'errore di Barbera Jet sulla curva. Partita molto bene Baria Ama. Si sistema a terza lungo la corda. Numero 5, Barbera Jet, squalificato. Quindi in vantaggio Buganda FKS. Roberto Vecchione con la giuba della scuderia Piuma. Arriva ai 400 metri in 31,3. Abbastanza sgranate le femmine di questa terza corsa. Con in vantaggio sempre la Saura, la figlia di Oropuro Bar. Che conduce davanti a Basilea 3B. Poi vediamo Baria Ama. 600 in 48 scarsi. Siamo al passaggio davanti alle tribune. Ancora Salda Battistrada, Buganda FKS davanti a Basilea 3B. Poi Baria Ama, a largo avanza Boom Boom Jet con Paolo Leoni. Che si trascina a Beverly Trio. Intanto 15,9 qui davanti alle tribune. Primo giro in 1,3,8. Sempre in vantaggio Buganda FKS con Basilea 3B. Numero 3, Beverly Trio, squalificato. Che accenna a spostare. Non vuole farsi chiudere. Vincenzo Piscoglio. chilometro in 1,19,5 avanza Baria Ama che si è fatto infilare di dentro da Briscola a Matley. Poi ancora vediamo Blue Call. Intanto arriviamo al paletto dei 400 finali con Basilea 3B che dà un severo attacco alla Battistrada che risponde. Poi si avvicina ai due Baria Ama. Siamo sulla curva finale con Basilea 3B che mette mezzo cavallo davanti a Buganda. Poi si prepara anche Baria Ama. Vicino anche Briscola a Matley. Ultima curva passata in 15,5. Rette d'arrivo Buganda FKS sopravvanzata a largo da Basilea 3B. Si butta di dentro Baria Ama. Ultimi 50 metri ed è Basilea 3B che viene a vincere mentre per il secondo Baria Ama batte Buganda FKS al quarto. Briscola a Matley. 1,18 secco. La media al chilometro 36 a chiudere per Basilea 3B. Prima vittoria in carriera per questa figlia di Ganymed. Il training è quello di Tiberio Cecere. La scuderia Titan Stable è venuta ad aggredire la Battistrada Buganda FKS ed è passata bene con Vincenzo Piscuoglio. Mentre per il secondo Baria Ama con Davide Nudi riesce a battere una comunque valida Buganda FKS. La quota in chiusura per Basilea 3B 2 e 33. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.